Io uso il gadget, ci siamo invertiti, ovviamente non posso attraversare il muro, ma vado a usare il gadget e il muro lo va a attraversare Vado a tirare la hit e tirare... tre colpi così Aiuto! Se faccio così, vediamo Ma no, ma che è? Ma è lunghissima Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi ragazzi siamo qua tornati nell'app sviluppatore di Brawl Stars Che vado ad aprire assieme a voi Ed eccoci qua Avete visto la scremata di caricamento e questo è lo sfondo Con questa musica molto... Quello è Comunque sneak peek numero uno, mi raccomando restate sintonizzati Un bel like, iscrizione e campanellina finita subito Che nei prossimi giorni vi farò vedere tutte le novità dell'aggiornamento Vi ricordo che l'app sviluppatore di Brawl Stars ovviamente voi non la potete avere Ma solamente noi partner Supercell Tra l'altro qua la canzone è Beh devo dire molto content Nel video di oggi volevo farvi vedere quali saranno i vari nerf e buff dei Brawler Per più i nuovissimi 10 gadget Io partirei da Mr.P con la Star Power Kill in eccesso Perché come sappiamo i bagagli di Mr.P rimbalzano e provocano danni ad aria Anche se non colpiscono avversari ostacoli grazie a questa Star Power Bene, ora questa Star Power è già integrata Infatti adesso la Star Power Kill in eccesso avrà un nuovo effetto Ovvero che la valigia dopo che avrà subito il rimbalzo Avrà un danno aumentato del 40% ogni 4 secondi Io andrei a provare perché non è che si capisca tanto no Intanto abbiamo una barra come vedete sotto la vita di Mr.P Quindi quelli sono i 4 secondi Cos'è che succede? Che di base come vedete adesso qua la valigia rimbalzerà da sola Avrà 1080 di vita, cioè di danno Se adesso rimbalza va a 1512 Adesso si è di nuovo ricaricata quindi avrà nuovamente 1512 Non caricata avrà 1080 Questa è la Star Power nuova insomma Ovviamente andando a colpire il bersaglio normalmente sarà sempre 1080 Non cambierà nulla Sarà il secondo danno dato dal rimbalzo che cambia Anche porte girevoli di Mr.P supera un cambiamento Perché in questo momento la velocità di rigenerazione degli assistenti sconfitti viene ridotta di 3 secondi Dopo l'aggiornamento tutti gli assistenti robotici della mina base Hanno il 20% in più di salute e casano il 30% in più di danni È il turno adesso di Brock In questo momento lui possiede l'abilità stellare incendiario che fondamentalmente è questo Lascia questo cerchio infuocato che ha un danno di 520 per 2 Bene anche nel suo caso questa abilità è già incorporata E al posto di questa Star Power abbiamo razzi a volontà Quando andiamo a usarla ulti verranno semplicemente lanciati più razzi Quindi ve la faccio vedere al volo Avremo sempre la questione incendiario però di base Senza avere la Star Power Con quest'altra Star Power andrà a tirare più razzi E direi che si nota abbondantemente questa differenza Quindi attenzione anche a Brock che adesso è molto interessante Non che prima non lo fosse in realtà Abbiamo poi Jackie dove la Star Power Pumper Martello viene molto più utilizzata rispetto a casco salvavita Quindi per invogliare un po' di più l'utilizzo di casco salvavita Adesso il casco di Jackie non riduce più del 15% Adesso sarà del 20% Abbiamo adesso Bea Anche qua un piccolo cambio con la Star Power Armatura dell'alviare Infatti in questo momento Bea riduce i danni del 20% Quando il Mega Pungiglione è caricato al massimo Adesso sarà del 30% Il Mega Pungiglione ovviamente è il colpo quello bustato Quello che fa più danni È il turno adesso di Gelindo Anche nel suo caso una piccola modifica alle Star Power Infatti in questo momento quando utilizzate questa Star Power Dice che la Super 10 Cilindro paralizza i nemici per un secondo Se vengono sbalzati contro gli ostacoli Adesso non è un secondo ma uno e mezzo Anche Griff subisce un miglioramento importante Non alla Star Power ma al danno Infatti l'attacco base da 220 aumenta a 260 per colpo Anche il Colonello Linghio ha un piccolo aumento del danno Infatti da 500 passerà a 560 per colpo Anche a Maxine viene aumentato l'attacco Non farà più 300 per colpo ma 340 Ma ora passiamo in Erf Infatti troviamo Grom che era ancora troppo forte Tanto per cominciare la velocità del proiettile è uguale Che sia un colpo lungo o che sia un colpo ravvicinato Il tempo per percorrere la distanza è uguale identico come state vedendo Poi è stata ridotta la distanza dei Super Proiettili Che dovrebbero essere Immagino i 4 proiettili che si dividono Distanza che si è ridotta da 25 a 17 A favore però la Super si ricaricherà con 6 colpi anziché 7 Poi abbiamo Tara dove è stato ridotto il danno da 4,60 a 4,40 Poi abbiamo Beryl che andiamo a prendere la sua Super Infatti abbiamo la riduzione dei danni del 90% Dal 90 passerà al 50 come state vedendo Che fa riferimento ovviamente ai danni che subisce mentre sta usando la ulti Per quelli che riguarda i Brawler abbiamo finito qua Ma ultima modifica Riguarda l'equivaggiamento salute Che in questo momento fa recuperare 100 punti salute al secondo al Brawler quando immobile Adesso invece migliora del 50% la velocità di rigenerazione della salute Ovviamente la percentuale varia in base al livello Qua che è maxata è il 50% A livello 2 sarà 40% A livello 1 30% Quindi questi erano tutti vari nerf e buff Ma ora andiamo a vedere i nuovi gadget Io partirei da Colette dove abbiamo il gadget Ruba vita Nei 5 secondi successivi all'attivazione del gadget Colette recupera salute pari all'80% dei danni che causa Quindi molto banalmente vado ad attivare il gadget Adesso inizio a perdere vita Andando a ettare il nemico vado a recuperare l'80% di quello che tolgo insomma Quindi se qua adesso vado a togliere 750 ho recuperato 600 L'80% per l'appunto Poi abbiamo Lola col gadget contro figura Lola è il suo ego ovvero il suo clone Si scambiano di posto e ripristinano 350 punti salute Quindi ho preso la ulti In questo caso se io vado a buttare il clone di là Abbiamo ovviamente il robot che lo sta ettando Io uso il gadget Ci siamo invertiti Come avete visto il clone ha recuperato 350 di vita Io no perché ero full Ma adesso se lo vado ad utilizzare Ecco entrambi abbiamo recuperato 350 Lo posso andare a riutilizzare nuovamente se non muore Infatti eccoci qua E sono riuscito a far sopravvivere il clone Procediamo con BB dove abbiamo collante La prossima volta che BB userà la super La gomma da masticare rallenterà per 2 secondi i nemici che colpisce Non so se da quarente perché credo che sia la velocità di movimento Quindi vado ad usare il gadget Uso la ulti Come vedete subisce un effetto di rallentamento Però è di movimento Quindi nel campo di prova non si vede Ma vabbè il nemico sarà più lento Poi abbiamo Ems con nube acida La prossima nube di lacca spruzzata da Ems attraverserà le pareti Ma infliggerà il 20% di danni in meno E qua ho un po' di paura Andiamo a provarla Quindi cos'è che succede? Io qua ovviamente non posso attraversare il muro Ma vado ad usare il gadget E il muro lo va a attraversare Il 20% non è neanche così tanto Perché ovviamente in tutto questo possiamo anche prendere dell'hit per la ulti Quindi continuare ancora il nostro attacco E dare il colpo di grazia eventuale Insomma è broken questa credo Abbiamo poi Grom con controllo radio L'attacco di Grom successivo all'attivazione del gadget Sky a 3 walkie talkie in rapida successione Quindi vado ad attivarlo Vado a tirare la hit E tira 3 colpi così Aiuto! Ma piccola curiosità Non credo funzioni con la No no con la ultima è solo l'attacco normale Direi che insomma Sarebbe anche il caso ecco Andiamo a riprovare Cioè è anche perché il danno non cambia Quindi insomma è abbastanza rotta anche questa Troviamo poi Byron con richiamo Con l'attacco successivo all'attivazione del gadget Byron spara 3 dardi invece di 1 Ognuno di quali infligge il 20% di danni in meno E cura il 40% in meno Quindi è letteralmente la stessa cosa di Grom Ma fa meno danni e cura meno Nel caso in cui colpiamo un alleato ovviamente Quindi vado ad attivare il gadget Lo andiamo Ah tra l'altro Ah ne spara 3 sto giro Però seguendo un'area Non una zona fissa Ah in questo modo Ok non sono proprio 3 attacchi come Grom Ma insomma il concetto quello è Possiamo andare a prendere un'area Con vabbè 3 nemici ovviamente Troviamo poi Squeak con residuo La prossima esplosione dei grumi gelatinosi di Squeak Permette agli alleati di vedere 3 cespugli per 15 secondi Ovviamente bisogna capire Se è il cespuglio in cui andiamo a hittare Quindi proviamo tipo Prima di qua Qua abbiamo solo un cespuglio Infatti qua non è successo nulla E si forma quell'area Quindi immagino che si debba colpire quell'area Proviamo in questo modo Vediamo 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 No in realtà non è Vabbè forse perché non l'ho preso in realtà Anzi si si vede che c'è proprio un cespuglio Beh sto giro lo tiro meglio Facendo così Abbiamo Ecco qua Esattamente in questo modo Però non possiamo vederlo solo noi Ma anche i nostri alleati ovviamente Per 15 secondi abbiamo detto Quindi ha un bel po' di tempo Poi abbiamo Bell con Invertitore di polarità L'elettrocolpo che Bell lancia dopo l'attivazione del gadget Rimbalza sulle pareti Immagino sia in stile stecca No quindi se abbiamo il colpo Normalmente va contro la parete Attivo il gadget E infatti Letteralmente in stile stecca Ma può fare solo un rimbalzo Prima così No può fare più rimbalzi Proprio come stecca Ma voglio vedere bene la sua area Se faccio così Vediamo Ma che è ma è lunghissima Ma è spettacolare ste cosa Wow E l'abbiamo preso il robot così Fighissimo Ovviamente il danno non cambia Troviamo poi Fang Con calcio rotante Fang si era un calcio rotante Che colpisce tutti i nemici attorno a sé Stordendoli per un secondo Quindi eccoci qua Direi di andarla a provare in mezzo A tutti i robottini Credo che sia in stile Mortis Vediamo un po' Mi metto tipo qua in mezzo Lo attivo Li ho storditi E basta Può essere interessante Per dare un eventuale colpo di grazia Però ovviamente non è che sia Tutta sta gran roba eh Un minimo utile Sì ma nulla di che Ma magari in partita Sarà molto utile Chi lo sa Ultimissimo gadget Abbiamo Ash Con banana marcia La salute di Ash Cala del 20% Ma la rabbia aumenta Istantaneamente Del 50% Quindi gadget Che dobbiamo attivare Al momento giusto ovviamente Ok che la sua vita È molto alta Ma al 20% E beh cala di oltre 1000 Quindi appunto l'indicatore Va oltre la metà Ed è più facile Avere l'indicatore pieno Quello sì Però vi raccomando State attenti Che questa va usata bene regà Ad ogni modo regà Vi ho fatto vedere Tutti i nuovi gadget Tutti i vari nerf Buff Con tanto disc armato Di caricamento E musichina Quindi direi che per oggi Possa essere tutto Mi raccomando Un bel like Iscrizione Campanellina Restate sintonizzati Per i prossimi sneak peek Bellissima Per i prossimi